Ma proviamo, proviamo il chat CPT, dai. New chat, devo cliccare qua, penso, ah ok, posso scrivere già qua? Ho una domanda culinaria per te. E vedi che rispondi in inglese. Cioè, certo, chiedimi pure. Sono qui per aiutarti con le tue domande culinarie, ok. Ma la pasta col tonno è bianca o rossa? La pasta col tonno bianca prevede l'uso di tonno in scatola sgocciato. Burro e panna? Che sbocco! Formaggio gratuito e prezzemolo! Chi è il criminale? Sbocco! Cioè, tonno, burro e panna, formaggio grattugiato e prezzemolo? In ogni caso sia la pasta col tonno bianca e quelle rosse sono deliziose e si sposano bene con molti di più patti. Come ad esempio i fusilli, le peno e gli spaghetti. Così, aspetta, la unica americana. Sbocco, Dio. Non credo che la pasta col tonno bianca abbia gli ingredienti che hai elencato. Anzi, solo ad immaginarmela sbocco tutto. La bianca fa sboccare e quindi vince rossa. No, vabbè, ma fa sboccare sta ricetta. Mi scuso per la confusione. La ricetta per la pasta al tonno bianca può variare a seconda della tradizione culinaria e delle preferenze personali. Ovviamente, in generale, gli ingredienti comunemente utilizzati sono il tonno, giustamente, in scatola, la panna. Ma chi è che mette la panna da cucire? Il burro o l'olio? L'olio d'oliva, ok. Il succo di limone. L'aglio. E il prezzemolo, che ci può stare il prezzemolo. La salsa di verità preparata. Sciogliere. Ma sei sicuro al 100% che ci voglia la panna? Perché Cioè, non sono proprio convinto di questa ricetta. Ah, mi stai spiegando tutta la ricetta. Spero che se fosse siano utili per te. Vai. Assuming il reato di gender, sì, lo so. Purtroppo Te metti il Philadelphia, zigio. Minchia. Pasta bianca, tonno, limone e menta è mega buona. Ecco, tonno, limone e menta, già sì. Magari però non il succo. La scorza. Il burro solo per la panna. Ma la panna. No, 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 no. Zuto, non facciamo la ricetta. Ricetta GPT. La ricetta... Povera lei. Più cremosa. Mentre in altre varianti non è prevista. All'aggiunta di panna. Ok, perfetto. In questo caso la salsa viene preparata facendo sciogliere il burro o l'olio. Vediamo un po'. In una padella aggiungere il tonno in scatola, sgocciolato, l'aglio, tritato, e un po' di prezzimo. Perfetto. Si mescola il tutto e aggiungi un po' di acqua di cottura della pasta per creare una salsa che aderisca bene alla pasta. Quindi in sintesi la pasta col tonno bianca può essere preparata con o senza panna. A seconda delle preferenze. Con la seconda ricetta mi hai convinto. Bravo, adesso l'americano ha capito come si cucina. Mi faccio vedere che le mie informazioni ti siano utili e che hai trovato una versione della ricetta che ti soddisfa. Ho altre domande o hai bisogno di ulteriori informazioni? Allora, vediamo un po'.